Professoressa Montalbano, vent'anni senza Giovanni Fazio. Intanto le chiedo che cosa significa per lei questa commemorazione, questo ricordo che anche dal punto di vista istituzionale è stato organizzato al Comune? E' una cosa che mi fa molto piacere perché ricordare mio marito è sempre importante per la persona, per l'uomo che è stato, per tutto quello che ha dato. Vent'anni sono passati ma è stata dura per noi perché affrontare tutta questa vita senza mio marito è stato pesante. All'inizio è stato devastante, infatti questa è la prima volta che riesco a dire qualcosa. Devastante perché era impensabile che un vigile urbano potesse subire questo vile attentato. Era impensabile, di fatti la mia più grande paura era sempre la strada. Avevo terrore degli incidenti perché continuamente a Giovanni veniva sciacca perché era qui che la famiglia aveva sede. Aveva qui sede perché mio figlio era piccolo, quindi avevo l'aiuto dei miei genitori perché anch'io viaggiavo continuamente. Quella notte si trovava a Lampedusa perché come insegnante era stata destinata lì. Quando le arrivò la notizia, che ricordo ha? Innanzitutto è stato un ricordo che ancora faccio fatica a ricordare. Era in questo periodo, settembre, come tutti gli insegnanti precari, andavamo sempre a prendere servizio nella sede destinata. Ed io quell'anno ero a Lampedusa. Solo che il pensiero era sempre per mio figlio perché iniziava pure la scuola. Quindi l'accordo tacito con mio marito era quello che qualcuno di noi doveva essere presente ad accompagnare Michele a scuola. E mio marito mi diceva sempre, non ti preoccupare, ci sarò io, stai tranquilla. E quindi con questa promessa io andai a prendere servizio a Lampedusa e mi trovavo lì. All'inizio non era ancora la mia sede definitiva, quindi alloggiavo presso un albergo. E quella notte sentivo sempre squillare un telefono, ma non era nella mia stanza, era nella stanza accanto. Evidentemente cercavano me, ma io non riuscivo a comprendere. Poi l'indomani mattina venne quello dell'albergo a cercarmi in maniera delicata. Mi disse che dovevo subito partire perché per problemi familiari non hanno avuto il coraggio di dirmi quello che era successo. Si riesce poi, dopo tanti anni, a trovare una rassegnazione? Oppure la rassegnazione è comunque limitata dal fatto, per esempio, che in questa circostanza gli assassini di Giovanni non sono mai stati individuali? Non ci si rassegna mai. Io i primi anni li ho passati chiedendo sempre a tutti perché, perché, perché. Chi è stato? Sette anni sono passati a farmi sempre queste domande continuamente. Poi si comincia un po', non dico a convivere, ma a cercare di vedere oltre, di vedere la persona, di ricordare mio marito per quello che era, non per quello che aveva subito, che non meritava assolutamente questa fine. Quindi, di ricordare mio marito come lo conoscevo io e come testimoniavano tutti. Un ragazzo sempre pronto alla battuta, un ragazzo sempre pronto a sdrammatizzare, esatto, a sdrammatizzare la qualsiasi cosa. Gli stessi colleghi facevano a gara per fare servizio con lui, perché aveva sempre quella battutina al momento giusto per non appesantire il lavoro pesante che svolgevano lì a Palma di Montechiaro. Insomma, il lavoro pesante significa che quello era un clima un po' pesante, un po' difficile, come in realtà? Era un periodo in cui l'abusivismo edilizio era all'ordine del giorno e loro continuamente mettevano sigilli perché era il loro lavoro, venivano mandati in pattuglia proprio per fare questo lavoro. Ma non solo lui, tutti i suoi colleghi a rotazione andavano a fare questo lavoro. Immagina che questo assassino possa essersi inquadrato nell'adempimento del dovere da parte di Giovanni all'interno di questo mondo dell'abusivismo? Questa domanda me la faccio sempre, me la faccio continuamente perché prima che uccidessero Giovanni c'erano state delle avvisaglie con altri suoi colleghi, ad una sua collega avevano tolto l'arma che portava, l'arma d'ordinanza, ad un altro lo avevano atteso di sera, così lo avevano aggredito, ma niente di più. Però Giovanni era sereno, mi diceva stai tranquilla perché io cosa sto facendo? Solo il mio dovere, non sto facendo altro, soltanto quello che mi chiedono di fare è il mio lavoro. E quindi mi metteva anche serenità e tranquillità. E questo dico, me lo chiedo sempre, dico ma come mai? Dico Giovanni non pensava che potesse accadere pure a lui una cosa del genere, perché anche per lui era impensabile, anche per lui era impensabile. Giovedì c'è questo anniversario, cosa prova professoressa quando legge commenti sui social, li abbiamo visti in questi giorni, tutti di grandissima stima nei confronti di Giovanni per il suo carattere e per quello che lui è? Questo innanzitutto è importante per me, ma soprattutto per mio figlio, perché leggere tutti questi attestati di stima e di questo volere bene a mio marito, questo proprio manifestare continuamente questa solidarietà per la persona che era, lo descrivono sempre con il sorriso sulle labbra, una persona serena. Sono tante testimonianze che per mio figlio è un'eredità, ecco, è questo. E anche io sono qui proprio per ringraziare tutte queste persone che continuamente manifestano questi gesti di affetto, quando lo ricordano, con tanto affetto. Io l'ho conosciuto, so come era Giovanni, so la persona splendida che era e che è dedito alla famiglia, dedito al suo lavoro. Io ricordo sempre che è andato a Palma di Montechiaro con la febbre quella sera perché non voleva lasciare i suoi colleghi da soli, che c'era una festa settembrina come ogni anno si fa a Palma di Montechiaro e doveva andare ad aiutare i suoi colleghi. Quindi un ottimo padre di famiglia, un ottimo compagno, un ottimo lavoratore, un grande lavoratore con un grande senso del dovere. Ecco, Michele, tuo padre è stato riconosciuto vittima del dovere, quindi lo Stato, quello Stato che spesso noi critichiamo perché magari abbandona o ci abbandona o lo sentiamo lontano. Questo ti inorgoglisce particolarmente o ritieni che sia una cosa assolutamente normale? No, sicuramente mi inorgoglisce il fatto che è stata riconosciuta come vittima del dovere perché fondamentalmente mio padre non ha fatto nulla di sbagliato e in più rispetto a quello che era il suo compito fare. Quindi sono orgoglioso che lo Stato comunque abbia riconosciuto come vittima del dovere mio padre. Ecco, tu avevi appena cinque anni quando tuo padre è morto. C'è comunque, malgrado che tu fossi così piccolo, un insegnamento che ti porti dietro? Sicuramente un ricordo di lui è che era molto premuroso. Non mi ricordo una scena in cui era arrabbiato con me assolutamente e lo ricordo soprattutto che anche dopo dei turni estenuanti al lavoro quando tornava passava il resto della giornata con me. Quindi questi sono i pochi ricordi che continuo ad avere ma ovviamente ero troppo piccolo per ricordare altro se non alcuni momenti sbiaditi. Di questo suo carattere così solare, quali sono le tue sensazioni? Mi riferisco al fatto dei racconti degli altri. Sì, soprattutto vivo dei ricordi degli altri. Il suo ricordo in me è il ricordo degli altri che mi hanno raccontato sempre della sua solarità, del fatto che era sempre spensierato e comunque è una persona per bene sicuramente. Grazie. Grazie.